Il sindaco ha poche ore dalla proclamazione una sfida a tre che le ha dato la possibilità di guidare da oggi il paese di Larino. Che cosa crede che ha premiato la sua lista? Io penso che la nostra vittoria è dovuta all'organizzazione della lista, al nostro programma e quindi penso che questo abbia fatto la differenza. Ecco perché i cittadini di Larino hanno premiato la lista Siamo Larino. Quali saranno i suoi primissimi atti e iniziative che metterà in cantiere? Oggi già ci siamo insediati, abbiamo già messo su un'agenda e i primi interventi riguarderanno il problema del vietre. Infatti abbiamo già pensato di incontrare il Presidente Toma per vedere che cosa ha in mente la regione nella futura programmazione regionale a livello sanitario. Quindi per noi è importante trovare un ruolo di rilancio della nostra struttura. Le parlava appunto di rilancio. Il Larino è anche una delle città che vanta un patrimonio archeologico e artistico importante. Quindi anche magari la valorizzazione di quella che è la promozione del territorio e della cultura di Larino. Certamente. Nel nostro progetto altri punti salienti sono la valorizzazione del nostro patrimonio architettonico e archeologico e cercare di migliorare sotto l'aspetto turistico. Ecco perché noi vorremmo cercare anche di interloquire con le autorità competenti, sovrintendenza regione, per vedere di poter di nuovo fruire di alcuni tesori di Larino, come l'anfiteatro, che da anni purtroppo non ne possiamo fruire. Quindi è l'intenzione di poter attuare degli accordi di programma che ci permettono di sfruttare questi tesori. C'è magari una programmazione che ha nel cuore che vuole assolutamente che si realizzi nel brevissimo tempo? È chiaro che dobbiamo lavorare su due livelli. Un livello ordinario e quindi cercare di riuscire a tamponare le problematiche del quotidiano. Però c'è anche un altro livello su cui lavorare che riguarda la programmazione. È difficile a livello di programmazione raggiungere subito gli obiettivi. Noi pensiamo che nel giro di qualche anno durante il nostro mandato qualche obiettivo lo possiamo raggiungere.